33esima lettera. Mia amata Hélène, eccoci qua, questa è la 33esima lettera, come ti avevo promesso. Quel giorno, Hélène, ero talmente distrutto da non riuscire a credere che quanto mi dicevi potesse essere vero, che nei momenti in cui avrei scritto l'ultima lettera, la mia vita sarebbe cambiata in meglio. Ho odiato quelle parole, non volevo sentirle, mi sono ribellato con tutte le mie forze all'idea e ora mi sembra impossibile, è successo esattamente quello che avevi previsto tu, Hélène. Mi sono innamorato, di più, amo e sono amato e ogni mattina mi sorprendo di questo regalo immenso. Un anno fa ero l'uomo più infelice sulla faccia della terra, il mio cuore era diventato di pietra, era come circondato da un muro e poi nella mia vita è entrata questa donna, così diversa da te, Hélène, eppure l'amo dal profondo dell'anima, non ti sembra impossibile? Parafrasando una frase di Woody Allen che coglie nel segno, il cuore è proprio un piccolo muscolo molto elastico. E sai una cosa, Hélène? Sono felicissimo che lo sia. Anche se le risposte nello scomparto segreto non erano le tue, ora credo di nuovo ai miracoli. A volte mi piace credere anche che sei stata tu quel giorno a mandare la farfalla a cui Arthur è corso dietro arrivando da Sophie. E chi può dirlo? Forse è davvero così. Arthur le ha voluto bene da subito e io ci ho messo un po' di più, ma non per nulla sono un testone, come mi dice ogni tanto Sophie ridendo. Quest'estate non sono andato a un flare. Avevo appena trovato Sophie e volevo rimanere con lei. All'inizio Maman era delusa quando l'ho chiamata per avvisarla che non l'avrei raggiunta al mare, ma appena le ho confidato che davanti a me era seduta la ragazza che lei aveva sempre sperato si innamorasse del suo Julienne è stata felice. Bambino mio, ripeteva commossa, bambino mio. Per una madre il figlio resta sempre un bambino, anche quando ha 80 anni. Adesso mi fa sorridere, ma ogni tanto ho paura di quando arriverà il momento in cui nessuno mi dirà più bambino mio. Ormai l'estate volge al termine, le vacanze sono finite e tutti sono rientrati a Parigi. Qualche giorno fa è nata la bambina di Camille, un'incantevole femminuccia di nome Pauline. C'eravamo tutti, sia Carole non stava più nella pelle e anche il vecchio Paul, quando gli hanno messo in braccio la bambina, ha avuto un momento di lucidità e ha detto che quell'esserino indifeso era la cosa più preziosa del mondo. Ci siamo commossi tutti e la piccola ha afferrato un dito di Arthur e l'ha stretto nella sua minuscola manina. Arthur sta ancora con Giulietta. Un giorno è venuta a trovarlo e l'ho sentito mentre le diceva, tutto contento che adesso anche papà sta con qualcuno. Sofì ha ancora la sua mansarda nella cour del restaurateur, ma dopo il lavoro viene quasi sempre qui e si ferma a dormire da noi. È bello avere di nuovo una donna per casa che riempie la mia vita di luce. Non una donna, Sofì. Al contrario di Alexandra, infatti, io non credo che ci si possa innamorare di chiunque. Quando ha saputo che le lettere le prendeva lei, ha detto che ci aveva giurato. Un classico. E pensare che era convintissimo fosse Katrin. Quanto a lei sono contento che abbia superato la crisi. Qualche giorno fa io, Arthur e Sofì l'abbiamo incrociata sulle scale e abbiamo scambiato due parole. Era insieme ad un uomo simpatico che ci ha presentato come un suo nuovo collega. E c'è un'altra persona felice. Mi ha disturbato mentre ti scrivevo la mia prima lettera, Hélène. Ed era destino che mi disturbasse anche mentre ti scrivevo l'ultima. Appena mi sono seduto alla scrivania, ha telefonato Jean-Pierre Favre per chiedere notizie del romanzo. E procede alla grande, l'ho rassicurato. Tuttavia, ho aggiunto, lasciando la frase a metà. Tuttavia, ha ripetuto lui con voce tesa. Andiamo, Azulè. Non mi tenga sulle spine. È diverso da com'era all'inizio. Ah, sì? Che ne direbbe di un amore che nasce in un cimitero? In un cimitero? Pausa di riflessione. Perché no? Sembra originale. Sì, mi piace. Tutti i grani romanzi si aprono con una sepoltura. Ma la storia ha anche un lieto fine. Certo che sì. Non scrivo forse commedie romantiche. Lui si è messo a ridere. Molto bene, Azulè. Molto bene. Però non dobbiamo dimenticarci del romanzo sull'editore che balla al chiaro di luna, n'espa? Assolutamente. È il prossimo della lista. Ottimo. Me lo chiedo anch'io. Vedo che ha ritrovato l'entusiasmo, cara Azulè. Ha commentato soddisfatto. E ha ragione, il buon vecchio Jean-Pierre Favre. Dopo una faticosissima salita, la mia vita è di nuovo in discesa. Magari non sempre, ma è già qualcosa. Sono felice, Hélène. Non avrei mai pensato di poterlo dire. Assapore il mio amore per Sophie. Ma ciò non intacca il mio amore per te. Penso che il mio cuore sia abbastanza grande da contenervi entrambe. Però il mio posto è qui, Hélène. E il tuo è a Montmartre. O da qualche parte tra le stelle. Questa è l'ultima lettera che ti scrivo, angelo mio. E credo che non la leggerà nessun altro tranne te. Resterà nello scomparto all'interno della lapide, dove forse tra molti anni qualcuno la troverà e si meraviglierà del nostro amore così grande. Magari allora anch'io sarò morto da tempo e ti avrò ancora come allora a maggio. Ma fino a quel giorno vivrò e amerò. Tuo per sempre, Hélène.